Stamattina ti sei svegliato, sei andato in bagno, sei uscito e non mi hai detto neanche ciao, cioè ciao non è che devi essere sveglio, cioè dirmi ciao e basta. Vabbè ma viviamo insieme, cioè almeno ti esci dal bagno e dici buongiorno, è per educazione. A me dà parecchio fastidio il suo comportamento perché io capisco il suo carattere superante, però mi attacca in un modo in cui non dovrebbe attaccarmi per una cosa così banale e inutile. Ma tu stai a prendere il cebro? Ma cosa che per me non ha senso?